azione ti avevo detto che dovevi chiamare il tecnico per l'assistenza ma no hai detto che l'avresti chiamato tu ma cosa dici? mi spieghi adesso come facciamo a stampare i volantini per il corso? ma cosa ne so? e poi il corso di teatro è tuo ci dovevi pensare tu ma figurati beh sì hai ragione il corso di teatro è mio eh a proposito ottima lezione ottimo uso della voce beh è ottima mimica facciale grazie vedo del talento in te ma dici davvero? allora mi scrivo al tuo corso di teatro e tu per qualsiasi informazione leggi qua sotto